Resi noti dal Ministero i dati più significativi del nuovo anno scolastico. Per la verità i dati non sono completi perché si riferiscono al 6 di settembre del 2022, quindi qualche variazione ci potrà ancora essere, e soprattutto non comprendono i dati relativi al Trentino Alto Adige e alla Valle d'Aosta. Comunque complessivamente servono già ad avere un quadro completo di quello che capiterà durante l'anno scolastico che sta iniziando. Con l'avvio di questo anno avremo quindi 7.286.000 alunni, 290.000 con disabilità e 366.000 classi. L'anno scorso c'erano 7.407.000 studenti, 277.840 con disabilità e 368.600 classi. Nel 2020-21 avevamo iniziato con 7.507.000 studenti, 268.700 con disabilità e 369.000 classi. Perciò in due anni si sono persi più di 220.000 studenti e 3.000 classi, mentre gli alunni con disabilità sono cresciuti di quasi 22.000 unità, facendo quindi registrare un aumento dell'8%. Sfogliando il report del Ministero si possono trovare numeri interessanti che la dicono lunga su come nel nostro Paese si applicano le riforme che il Parlamento approva. Per esempio, come noto, è da più di 15 anni che le scuole del primo ciclo e quelle dell'infanzia dovrebbero funzionare all'interno di istituti comprensivi. Questo anche per favorire la continuità didattica. In realtà esistono ancora almeno 332 direzioni didattiche e 127 istituti principali di primo grado, cioè le vecchie scuole medie. In pratica si tratta di più di 450 istituzioni scolastiche anomale che sono però concentrate in tre regioni, Campania, Puglia e Sicilia. Per la verità anche nella piccola Umbria ci sono ancora 24 circoli didattici e 5 scuole medie. Nelle principali regioni del nord le direzioni didattiche sono ormai pochissime. 10 in Piemonte, una nel Veneto, nessuna in Lombardia, Liguria, Friuli, Venezia, Giulia. Un altro dato particolare riguarda la distribuzione degli alunni con disabilità. Nella secondaria di primo grado ci sono 77.000 classi e 76.500 alunni con disabilità, quindi in pratica più o meno un alunno con disabilità per ogni classe. Ma in Lombardia abbiamo un dato completamente diverso, più di 12.300 classi e poco meno di 15.700 alunni con disabilità, quindi con un rapporto ben superiore a 1. Esaminando i numeri relativi agli alunni della secondaria di secondo grado si ha la conferma che la dispersione scolastica incide in modo significativo. Qui vediamo i numeri degli alunni suddivisi per anno. 570.000 nelle classi prime, 546.000 nelle seconde, 539.000 nelle terze, 508.000 nelle quarte, 484.000 nelle quinte. Se l'andamento seguisse il dato demografico dovremmo attenderci un aumento progressivo del numero di alunni, esattamente come si osserva nella primaria o nella secondaria di primo grado. Invece, come si vede, gli alunni calano, evidentemente perché nel passaggio da un anno all'altro si perde una fetta non trascurabile di ragazzi che abbandonano il loro percorso scolastico per andare a lavorare o per passare alla formazione professionale o peggio ancora per non fare proprio nulla. Ma quanti insegnanti vengono utilizzati per far funzionare tutte queste scuole e queste classi e per fornire istruzione a più di 7 milioni di alunni delle scuole statali? Quest'anno i posti comuni sono circa 685.000, dato pressoché stabile rispetto al passato. I posti di sostegno sono invece 186.000 contro i 172.000 dello scorso anno. Va detto che il numero dei posti di sostegno è in progressivo aumento anche perché crescono i posti in deroga in relazione all'incremento del numero degli alunni con disabilità. Le statistiche ovviamente forniscono indicazioni di carattere generale, ma nulla dicono su cosa davvero accade nelle scuole e nelle classi. Soprattutto dicono poco su quanto sia sempre più impegnativo e carico di responsabilità il lavoro di chi insegna, come ha raccontato proprio pochi giorni fa il cantautore ma anche professore di latino e greco Roberto Vecchioni. Ecco sentiamo che cosa dice Roberto Vecchioni. Quella è l'ultima cosa della cultura che me ne frega mai dei fiumi dei mari e di Napoleone. La cultura è causa-effetto, è sensibilità per la sensibilità dell'altro, è inglobare tutto quanto un mondo in un pensiero, saperlo concepire, vedere, calcolare, catalogare ed è pazienza. Pazienza è non lasciarsi riscaldare da cose tue e basta, capire gli altri anche quando sbagliano, non fa nulla, anche quando potrebbero dire un'altra cosa. La cultura ci viene dalla scuola, non ci viene così improvvisamente dopo, ci viene dall'insegnamento e gli insegnanti italiani, lascialo dire a me che ne ho visti tanti, sono i più bravi del mondo. Su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, su tutto questo ma anche su molto altro, quindi voi seguiteci, leggete, consultate il nostro portale www.tecnicadellascuola.it e inviateci i vostri documenti, le vostre osservazioni, le vostre lettere, noi ne daremo conto come di consueto.